ciao a tutti amiche amici bentornati e bentrovati nel canale di mamma formiga e gigiolino oggi nuovo video all shane perché come sapete ormai la mia è diventata una dipendenza di shopping da scegliamo non c'è dicolo che scherzo ci sono arrivati due parti andremo a vedere cosa c'è dentro i barchi subito dopo la sì allora ho fatto due ordini sempre nello stesso giorno infatti sono arrivati insieme anche se separati perché erano appunto due ordini diversi vediamo cosa ho acquistato iscrivetevi pure al mio canale quindi stavo dicendo dopo l'interruzione di nicolò che ho fatto due ordini vediamo cosa c'è all'interno di questi barchi ho preso le forbici per fare prima allora come vi dicevo ho fatto due ordini su shades e nicolò che per istruire senza fare confusione questo è uno quello piccolo con un solo articolo vediamo cosa c'è all'interno c'è un completo perché io ho preso un completo pantalone e giacca mi dicono sempre che non ho pantalone completi adesso ho comprato un completo poi vediamo come mi sta come le altre volte faremo anche il try on cioè proviamo vediamo cosa c'è nell'altro palco questa volta ho acquistato solo 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 ed esclusivamente abbigliamento qualche giorno dovrò fare come dicevo qualche giorno dovrò fare un video chain versus realtà cioè con l'aspettativa verso la realtà ecco qui un altro po di roba ecco qua si è incollata la busta allora cosa abbiamo acquistato in questo passo dei maglioni stavolta ho preso i maglioni questo è il primo davanti e di più colori e dietro e bianco sono leggeri un altro maglioncino e poi sono due maglioni uguali simili andiamo a vedere cosa c'è in quest'altra busta un altro maglione collo alto ah no quello ha il collo alto questo invece è il giro collo sempre maglione un altro maglione scusate sottofondi di rigolo e poi un altro completo stavolta pantaloncino e giacca un altro completo di tweed questo è il pantaloncino elasticizzato e questa è la giacca adesso andiamo a provarli adesso ve li mostro indossati e poi mi fate sapere cosa ne pensate iniziamo col maglioncino e li proviamo tutti singolarmente a Grazie a tutti. 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 La fotografia, lo screenshot del mio profilo Vinted. Vi mostro anche i prezzi come faccio ogni volta con le fotografie dei vari prodotti. Quindi l'ordine in sé. E niente, vi lascio ora vedere i prezzi e le cose e poi ci salutiamo. Allora, come al solito vi mostro gli ordini, questo è il primo di 19 euro che ho preso con gli sconti. Quindi il completo e vi mostro anche indossato. e poi vi mostro anche l'ordine di 49,95. le 4 maglioni e le 4 maglioni e l'altro maglione beige a collo alto che mi è piaciuto tantissimo, è davvero morbidissimo e delicata come qualità. poi vi mostro l'altro maglioni. anche questo maglione a riga, anche questo è un po' più leggero rispetto a come te lo aspetti, però è davvero bello. quest'altro maglioncino leggero, anche questo a bordeaux e l'altro maglioncino grigio. ed infine vi mostro il completino, sia le foto che vedete su Shane, che le foto reali indossate. questo è il completino, e questo è indossato da me, scusate la faccia. Come vedete ho gli occhiali di un altro colore, perché ho fatto anche gli occhiali in questi giorni, mi sono fatto il regalo per il compleanno, perché il 24 febbraio è stato il mio 42esimo compleanno, e come regalo mi sono fatto gli occhiali, ho preso due paio di occhiali, questi sono quelli, diciamo, da battaglia, quelli che sono costati meno, e il paio di quelli buoni, che erano quelli che avevano il video precedente. Sono occhiali buoni, diciamo, ho preso le lenti, c'erano offerte che ti davano due paia di lenti, quindi ho adattato due montatori, uno da battaglia per andare a lavorare e per fare le pulizie a casa, e quelli buoni per uscire. E niente, se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete like, e commentate il video, attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui nostri video, e mi raccomando, questo è il mio profilo Instagram, ora vi mostro anche il profilo Rinted, e vi aspetto al prossimo video, ciao! Ciao!